Benvedete il titolo della nostra pubblicazione, un titolo movimentato molto dalle vicende della quotidianità, il super bonus, ma anche da molte vostre richieste, vostre domande. I nuovi investimenti valgono ancora, la scadenza di settembre ha fatto accelerare unifamiliari e unità indipendenti, insomma nonostante il caos normativo che ci ha tormentato per tutti questi mesi ci ha caratterizzati rispetto alla nostra voglia di informarci, la marcia dell'agevolazione va avanti, però noi per aiutarci a fare chiarezza e dare a voi le congrue informazioni abbiamo chiesto la collaborazione di un vero esperto che ho veramente il piacere dopo la sigla di presentarvi, è l'ingegner Marco De Flora, è direttore a Modernamente ai Servizi, grandi clienti di Cone Italia. Sapete che con Cone si sta facendo un percorso tematico di conoscenza anche su queste informazioni, dunque via alla sigla! Ecco che allora vi posso presentare il nostro ospite che ben vedete, Marco De Flora che ho già presentato essere il direttore a Modernamente ai Servizi, grandi clienti di Cone Italia. La saluto dottor Flora. Salve dottor Capitini, innanzitutto grazie per l'invito. Beh, l'impegno non è di poco conto perché dobbiamo rendere semplice alla comprensione con parole chiare, molto semplici, i contenuti e i meccanismi fiscali del Superbonus. Credo che non sia un'impresa facile, mi affido a lei. Prego. La ringrazio, cercherò di essere il più chiaro possibile. Superbonus è una misura di incentivazione introdotta il 19 maggio del 2020 dal governo Conte. Come riportato dal Decreto Legge 34 di quell'anno, più noto come Decreto Aiuti, consiste in una serie di meccanismi di agevolazioni, di detrazioni, di rimborsi per interventi di natura edilizia e impiantistica. Ha un obiettivo ben preciso, ovvero quello di ammodernare edifici esistenti, migliorando nell'efficienza energetica la fruibilità e la messa in sicurezza delle relative strutture e nel contempo risollevare il settore edile che, come immaginerà a causa della crisi pandemica, è stato in forte sofferenza. Chi effettua i lavori attraverso il Superbonus 110% di fatto ha una copertura pressoché integrale dell'investimento, salvo situazioni per le quali si supera dei relativi massimali di spesa ammessi e può optare per, in quel caso, di tre diverse modalità. Le agevolazioni infatti si hanno per detrazione delle spese, indichiarazione dei redditi, con ripartizione di cinque quote di pari importo su altrettanti anni, oppure uno sconto anticipato praticato da fornitori di beni e servizi, il cosiddetto sconto in fattura, o ancora l'accessione di credito a terzi, quanto mai famosa e soprattutto un po' alle cronache odierne, in quanto si tratta di una cessione in favore di fornitori di beni e servizi necessaria alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti quali possono essere ad esempio persone fisiche, o ancora istituti di credito o intermediari finanziari. Dico all'onore delle cronache perché poi magari dopo ci torniamo sopra in maniera un pochino più approfondita per capire quali sono state un po' le evoluzioni di questi ultimi tempi in materia proprio di cessione del credito. Senza alcun dubbio, non c'è problema riguardo al dottor De Flora, però io debbo fare la parte di colui che capisce fino a un certo punto e allora faccio le domande che la gente farebbe a un esperto qual è lei. L'agevolazione fonda dunque sulle detrazioni, se ho capito bene, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l'eco bonus, e per quelli di recupero del patrimonio edilizio anche, inclusi quelli antisismici, si dimentica spesso del sisma bonus. Giusto dottor De Flora? Corretto, ha detto bene. Per ottenere la detrazione fiscale 110% è sostanzialmente necessario che le spese sostenute mediante strumenti tracciabili, opportunamente documentate ed effettivamente a carico dei contribuenti o e possessori dell'immobile, riguardino uno o più dei seguenti interventi definiti trainanti. Metto un po' l'accento su questa N perché il trainante è la condizione sine qua non per ottenere lo sgravio fiscale 110%. Quali sono questi interventi trainanti? Interventi di isolamento termico, delle superfici opache, inclinate, verticali, orizzontali che interessano l'involucro, l'edificio. Questi devono avere un'incidenza superiore almeno al 25% della superficie lorda disperdente del manufatto. Oppure interventi condominali o su singole unità per la sostituzione di impianti di riscaldamento o di raffrescamento nel caso si installino pompe di calore reversibili, nonché la fornitura di acqua calda sanitaria condensazione a pompa di calore. Ecco, questi interventi combinati dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche. È ciò che sarà e dovrà essere accertato da soggetti abilitati a compiere la procedura di certificazione energetica degli edifici sulla base dei requisiti tecnici, così come stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico. In alternativa ancora, interventi di riduzione del rischio sismico, di adozione delle misure antisismiche in sostanza. Detto bene prima, ci si concentra spesso sull'eco bonus, però c'è anche una misura che appunto va verso l'irrobustimento strutturale, quindi la miglioria delle condizioni statiche del comportamento dell'edificio laddove fosse sollecitato da eventuali terremoti o movimenti. Sono soggette alle stesse agevolazioni se effettuate congiuntamente agli interventi trainanti, anche quelle spese che riguardano gli interventi trainati. Interventi trainati che sono anche qua normati, definiti, tra questi per esempio la fornitura di colonnine di ricarica per le auto ibride elettriche e la fornitura alla sostituzione di impianti ascensori o elevatori in generale con abbattimento e barriere architettoniche, il cui massimale, nel caso per esempio di eco bonus, ammonta a 96.000 per ogni unità immobiliare. Molto chiaro, dottor De Flora, veniamo adesso a chi ne ha diritto. Allora, hanno diritto alle detrazioni fiscali del 110% nei relativi limiti di spesa previsti della normativa i seguenti soggetti che le vada a delencare. Innanzitutto i condomini, gli istituti autonomi, case popolari, le cosiddette IACP o enti similari, le persone fisiche escluse imprese su un massimo di due unità immobiliari, le onlus o le associazioni di proporzione sociale o quelle sportive dilettantistiche. Negli ultimi mesi si è sentito parlare a lungo di grosse difficoltà del super bonus per esaurimento e mancanza di fondi e blocco della cessione dei crediti. Lo si è paventato. Qual è la situazione attuale e quali le novità più significative che si sente di segnalarci? Ha detto bene, negli ultimi mesi il super bonus è stato criticato ma non abrogato dal ministro Draghi. Vi è da dire che la misura ha suscitato critiche e polemiche anche da parte di economisti e professionisti del settore per alcuni effetti inflazionistici generati sì e perché sul piano dell'efficienza energetica vi è da dire che sarà raggiunta solo una piccola quota del totale edifici che necessiterebbe di tali interventi a livello nazionale. E tutto questo a fronte di un enorme investimento per lo Stato italiano. Basti pensare che a luglio del 2022 il costo del super bonus per le casse dello Stato aveva raggiunto 40 miliardi di euro, equivalente tra l'altro al limite di spesa budgettizzato e previsto per gli interventi sino al 2025. Tra l'altro sono stati sin qui coperti interventi per non più del 2% del patrimonio immobiliare nazionale che tra l'altro ne avrebbe di molto bisogno in quanto patrimonio storico, patrimonio edilizio che ha veramente molti decenni sulle spalle e che quindi è molto energivoro, ovvero molto diseficiente, non rispondente agli standard fissati alle normative in materia di edilizia ed in termini anche di barriere architettoniche. La cessione del credito del super bonus ha mostrato cambiamenti importanti per la conversione in legge del decreto semplificazioni e successivamente anche per quanto introdotto dal più recente decreto aiuti. Ebbene intanto ricordare che con l'accessione del credito sostanzialmente si trasferisce la detrazione fiscale a un altro soggetto, quindi si tratta di un accordo grazie al quale il creditore trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo soggetto che a salvolta lo riscuoterà dal debitore. Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica o le ristrutturazioni ad esser ceduto è sostanzialmente il credito di imposta. Si tratta di un credito verso lo Stato con cui si possono compensare i debiti e ridurre le imposte dovute. Dallo scorso anno ad oggi si è passati da una cessione di fatto illimitata al decreto sostegniter che invece ha vietato le cessioni multiple. Fino al recente decreto aiuti che ha introdotto la possibilità di un'accessione più libera ma solo per le banche verso i propri correntisti dotati di partita IVA. Questa novità vale anche per i crediti ceduti la cui comunicazione è antecedente al primo maggio 2022. Quindi insomma in sostanza grazie al decreto aiuti si è un po' sbloccata la situazione, si è un po' sciolto quel nodo che in realtà col decreto sostegniter si era un po' generato e che aveva portato in apprensione non solo chi aveva aderito al superbonus 110% ma anche gli attori protagonisti quindi mi riferisco soprattutto all'impresa. Possiamo quindi affermare che insomma in buona parte la situazione si può ritenere risolta rimane il tema grossolano dei fondi per il quale però il prossimo governo che andrà a formarsi dovrà far prontamente fronte con ulteriori stanziamenti. Manca di fatto quindi insomma poi se no la liquidità per poter acquisire questi nuovi crediti e la macchina potrebbe quindi di nuovo essere prossima al blocco. Inoltre per tutte le medesime motivazioni che abbiamo illustrato in precedenza auspichiamo però e questo lo dico anche un po' dal mio osservatorio da persona di Cune che per il prossimo futuro vi siano ulteriori strumenti per favorire la modernizzazione degli edifici esistenti al fine di concorrere alla trasformazione delle città in smart cities di cui avete a lungo parlato anche in una precedente puntata e che di fatto consentiranno di avere migliori condizioni di vivibilità, di fruibilità, di sostenibilità per i cittadini e per la popolazione che è in continua crescimento nelle grandi città. Allora mi fa molto piacere dottor De Flora sentire peraltro anche colorare di ottimismo il suo parlare, mi fa molto piacere. Su Cune poi torneremo perché chi ci ascolta può essere anche curioso di sapere per Cune che cosa significa super bonus e quali agevolazioni ci sono. Ma intanto c'è un ultimo aspetto che non è facile da capire ma che bisogna chiarire. Il super bonus spetta fino al 31 dicembre 2025 ma con dei distinguo e anche con delle differenti misure percentuali. Io so che quando parliamo di percentuali si fa un poco fatica ma lei riesce a spiegarci un poco meglio questa situazione? Sì allora anche questo aspetto è stato un po' complesso da analizzare soprattutto nel corso degli ultimi mesi. Diciamo che la novità più importante che riguarda il super bonus e che viene introdotta un po' con la legge di bilancio del 2022 è che in effetti in funzione del decreto aiuti si fissano determinate proroghe che andiamo un po' a dettagliare e a distinguere. Allora vi è innanzitutto una proroga per il super bonus a fine 2023 per i condomini e sugli edifici composti da 2 a 4 unità in termini di aliquota piena quindi 110%. Vi è poi però una proroga come ha detto bene lei fino al 2025 per condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari però con un'aliquota decrescente. Mi spiego superato il termine del 2023 l'aliquota scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per quanto riguarda invece gli immobili di proprietà delle cooperative la scadenza del super bonus viene allineata a quella delle ex IACP ovvero il 31 dicembre del 2023 purché vi sia completamento al 60% delle opere da svolgersi entro il 30 giugno del 2023. Ultimo è la proroga che è stata introdotta per le case cosiddette unifamiliari con tetto ISEE di 25 mila euro ma con il vincolo del raggiungimento del 30% dei lavori al 30 settembre 2022 quindi in scadenza molto a breve. Riteniamo che questa sia l'ultima proroga e diciamo le ultime definizioni e le ultime articolazioni per quanto riguarda il super bonus 110%. In una recente riunione sul decreto aiuti e durante insomma il dibattito parlamentare il governo ha escluso possibilità di ulteriori proroghe proprio per una questione di stanziamenti come le accennavo poco fa. Allora senta dottor De Flora adesso io devo farle una proposta. È stato bravissimo nello spiegarci questo spiegamento di situazioni ma mi manca tutta la parte concreta che riguarda anche Cone per cui noi siamo qua. Quindi la proposta che le faccio è si interrompe la pubblicazione qua ma è soltanto un darsi un appuntamento per un'altra pubblicazione in cui il nostro discorso potrà continuare entrando ancora di più nel concreto con degli esempi che deriveranno proprio dal comportamento sul super bonus di Cone Italia. È d'accordo con me? Certamente sono molto lieto di potervi accompagnare ulteriormente in questo percorso di analisi di approfondimenti sui super bonus e magari valutare anche cosa Cone fa in merito e quali sono le soluzioni che potremmo proporvi al meglio con le quali insomma procedere in logiche di ammodernamento degli edifici sfruttando a pieno le opportunità preziose del super bonus. E quindi questo prendersi cura prima puntata si interrompe qua ma l'appuntamento è per la seconda conclusiva puntata. Alla prossima. Grazie della sua disponibilità dottor De Flora e a presto su questi stessi canali dunque. Grazie. Grazie a lei ancora una volta dottor Capitini e buon proseguimento a lei e a chi ci sta guardando. E anch'io vi ringrazio amici che siete all'ascolto. Abbiamo allora compreso bene che si riprenderà, si concluderà il ragionamento sul super bonus, un tema che anche voi ci avete richiesto di trattare. Quindi sigla finale ma appuntamento a prossimo a vederci.